siamo al fine settimana di pasqua già cominciato con ieri con giovedì con i sepolcri e andiamo verso quelle che un tempo erano le festività pasquale giorno di pasqua il giorno di pasquette c'è bel tempo dovunque clima molto mite il sole però una raccomandazione io mi sento di farla a tutti quanti noi abbiamo davanti a noi un altro mese scarso diciamo 20 giorni di rispetto pieno delle regole che ci sono state non buttiamo tutto per mare cerchiamo di stare in casa in questi giorni il più possibile anzi sempre perché la curva dei contagiati è tutt'altro che stabilizzata come ci stanno dicendo i medici e come ci stanno dicendo tutti gli esperti dell'istituto superiore di sanità so che è difficile so che è complicato è passato un mese di di stare in casa e pesa e pesa per tutti però credo che se noi vogliamo la salvezza nostra dei nostri figli dei nostri nipoti della nostra bellissima terra e auspicare di passare delle giornate le prossime delle prossime settimane dei prossimi mesi in condizioni migliori di oggi non c'è che una cosa da fare fare uno sforzo affacciarsi alla finestra affacciarsi ai balconi per chi ha un piccolo giardino stare in giardino per chi non ha nulla stare davanti alla tv leggere sul libro leggere su un giornale ma stare a casa perché così aiutiamo anche tutti coloro i quali sono in questo momento per le strade e cioè gli operatori della polizia dei carabinieri della guardia di finanza del corpo dei vigili urbani che stanno facendo controlli dovunque attenzione per noi per la nostra salute e per quello che ci aspetta buona pasqua a tutti grazie a tutti